Nella vita pura e monotona delle ragazze, ve' un'ora deliziosa in cui il sole effonde nell'anima loro i suoi raggi, in cui il fiore esprime pensieri, in cui i palpiti del cuore comunicano al cervello una calda fecondità e fondono le idee in un vago desiderio. Ve' un giorno di innocente melanconia e di gioie soavi, quando i bimbi cominciano a vedere, sorridono e quando una fanciulla intravede il sentimento nella natura, essa ritrova il suo sorriso di bambina. Se la luce è il primo amore della vita, l'amore non è forse la luce del cuore? E per Eugénie giungeva ormai il momento di scorger chiaro nelle cose di questa terra. Mattiniera, come tutte le ragazze di provincia, ella si levò di buon'ora, recitò la sua preghiera e prese a vestirsi, cosa che cominciava ad avere importanza per lei. Si pettinò i capelli castagni, ne avvolse le grosse trecce al di sopra della nuca con minutissima cura, cercando che nessun capello sfuggisse dalla massa, e diede risalto in tal modo al timido candore del viso con una giusta armonia fra la semplicità degli accessori e la purezza delle linee. Mentre si lavava più volte le mani nell'acqua fresca che le induriva la pelle arrossendola, si guardò le belle braccia rotonde. Volle cercare la causa per cui il cugino aveva le mani così morbide e bianche, le unghie tanto bene affilate. Si mise calze nuove, le scarpe più eleganti, e, pungendola per la prima volta il desiderio di comparire graziosa, comprese d'un tratto quanta gioia possa aspettarsi da un abito ben fatto che renda più attraente. Terminata la toaletta, udì suonare l'orologio della parrocchia e si stupì di contare soltanto le sette. Per timore di non avere il tempo necessario per vestirsi bene, si era levata troppo presto, ma, ignorando l'arte di accomodare dieci volte un ricciolo e di studiarne l'effetto, Eugénie incrociò semplicemente le braccia, sedette alla finestra e si mise a contemplare il cortile, il giardino stretto e le altre terrazze che lo dominavano. Una triste veduta nell'insieme, ma non priva delle misteriose bellezze proprie dei luoghi solitarii o della natura incolta. Accanto alla cucina era un pozzo con parapetto di pietra e con la carrucola sostenuta da un braccio di ferro curvato intorno a cui si attorcigliava una vite appassita, rossa, bruciata dalla siccità. Dal ferro passava sul muro, vi si attaccava, correva lungo la casa e andava a finire nella legnaia, dove la legna era disposta con la stessa cura con cui sono disposti i libri di un bibliofilo. Il pavimento del cortile aveva tinte nerastre prodotte col tempo dai muschi e dalle erbe e le mura erano rivestite come d'una camicia verde listata da lunghe strisce brune. Gli otto gradini che in fondo al cortile menavano all'uscio del giardino erano disgiunti e quasi sepolti sotto le piante come la tomba di un cavaliere delle crociate sepolto dalla sua vedova. Sopra una fila di pietre mezzorose poggiava un cancello di legno marcio cadente per antichità e tutto avvinto da piante rampicanti. Ai lati del cancello si protendevano i rami storti di due meli tisici. Tre viali paralleli sparsi di sabbia e separati dai uole con bordo di bosso formavano il cosiddetto giardino che finiva sotto la terrazza in un gruppo di tigli. In un angolo vi erano alcune piante di fragola in un altro un noce immenso spingeva i rami fin sopra il gabinetto del vecchio bottaio. Una giornata limpida e lieto sole d'autunno in riva alla loira venivano man mano dissipando quella specie di velatura che la notte aveva distesa sopra gli oggetti pittoreschi sui muri, sulle piante del giardino e del cortile. Eugénie sentì un fascino tutto nuovo in quelle cose che fino allora le erano rimaste indifferenti. Mille pensieri confusi le sorsero nell'anima e crescevano a misura che i raggi del sole diventavano più vividi. Finché un moto di piacere la scosse, vago, inesplicabile, un piacere che ne avvolgeva l'essere morale come una nuvola avvolgerebbe l'essere fisico. I suoi pensieri erano in perfetto accordo con i particolari dello splendido paesaggio e le armonie del cuore finirono con l'unirsi a quelle della natura. Quando il sole raggiunse un angolo del muro di dove si protendevano le piante di capel venere dalle larghe foglie a colori cangianti simili a petti di colomba, parve ad Eugénie che celesti raggi di speranza le illuminassero l'avvenire e provò di letto a contemplare quel pezzo di muraglia, i suoi fiori pallidi, le campanelle azzurre e le erbe appassite cui si legò un ricordo soave come quelli dell'infanzia. Il fruscio di ogni foglia che cadeva dal suo ramo nel cortile sonoro sembrava una risposta alle mute domande della fanciulla che restava intanto la inconscia del fuggir del tempo. Poi dentro quell'anima si agitò qualche scrupolo ed alzandosi, ella veniva innanzi allo specchio e vi guardava la sua persona come un autore ingenuo contempla l'opera sua per scoprirne i difetti e dirsi male di se stesso. Io non sono abbastanza bella per lui, pensava Eugénie, umile e dolente. Certo, la povera ragazza non era giusta verso se stessa, ma la modestia, o meglio la timidezza, è una delle prime virtù dell'amore. Ella era una fanciulla di forte costituzione, come ve ne sono tante nella media borghesia, e la sua bellezza poteva anche sembrare volgare, ma pur non somigliando alla venere di Milo, aveva nelle forme l'impronta nobile e soave del sentimento cristiano, che purifica la donna e la circonda ad un'aria speciale, ignota agli scultori dell'antichità. Aveva la testa grande, la fronte maschia, ma delicata del giove di Fidia. I suoi occhi erano grigi, nella cui pallida luce pare a riflettersi intera la castità della sua vita. Le linee del viso rotondo, già fresco e roseo, avevano un po' sofferto pelvaiuolo, abbastanza benigno da non lasciarvi traccia, ma tale da distruggere il velluto della pelle, sebbene questa si conservasse tuttavia così dolce e fine che il puro bacio della madre vi imprimeva per un istante un segno rosso. Il naso era un po' troppo pronunziato, ma armonizzava con una bocca del più bel carminio spirante dalle labbra affetto e bontà, mentre di squisita modellatura appariva il collo. Il seno, ricolmo ed accuratamente nascosto, attirava lo sguardo svegliando i sogni e la stessa rigidezza dell'alta statura, benché priva della grazia dell'abbigliamento, doveva avere un fascino speciale per i conoscitori. Eugénie, grande e robusta, non aveva nulla del leggiadro che piace alle masse, ma era bella di quella bellezza che ha potenza solo sugli artisti. Se un pittore fosse venuto qua giù alla ricerca del tipo personificante La Celeste Purità di Maria e avesse chiesto a tutta la natura femmina e agli occhi modestamente fieri divinati da Raffaello, le linee verginali, spesso fiorenti dall'impeto improvviso della concezione, ma frutto in realtà di una vita cristiana e pudica, quel pittore acceso da un raro modello avrebbe trovato d'un tratto nel volto di Eugénie la nobiltà innata e incosciente di sé, avrebbe intraveduto sotto la fronte tranquilla un mondo di affetto e nello sguardo, nel moto delle pupille, un non so che di divino. I suoi lineamenti mai alterati né stancati dall'espressione del piacere somigliavano alle linee d'orizzonte che sfumavano dolcemente nella lontananza dei placi di laghi. Quella fisionomia calma, colorita, circonfusa di luce come un bel fiore aperto dava all'anima un senso di pace, comunicava quasi il fascino della coscienza che vera rispecchiata e avvinceva gli sguardi. Eugénie era ancora sulla riva del fiume della vita, dove fioriscono le illusioni infantili, ove si colgono margherite con un sentimento di delizia che diverrà ignoto in seguito e, mirandosi nello specchio, ignara ancora dell'amore, ella ripeteva a se stessa «son troppo brutta, io, non può badare a me». Aprì la porta della camera che dava sulla scala e sporse il capo per ascoltare i rumori della casa. «Non si è alzato», pensò, udendo la tosse mattutina della domestica e l'andare e venire della buona donna che spazzava e metteva in ordine la sala, accendeva il fuoco, legava il cane alla catena e parlava alle bestie nella stalla. Eugénie scese e corse da Nanon che mungeva la vacca. «Nanon, Nanon buona, fa un po' di crema per il caffè del cugino». «Ma signorina, bisognava pensarci ieri», rispose la domestica dando in una grande risata. «Io non posso far della crema. Vostro cugino è vezzoso, vezzoso, ma proprio vezzoso. E se l'aveste veduto con la sua veste da camera di seta e oro? L'ho visto io. Ah, della biancheria fina che pare la cotta del signor curato!» «Nanon, fa un pasticcio!» «Brava, e chi mi darà la legna per scaldare il forno? Chi mi darà la farina e il burro?» disse l'altra che, come prima amministratrice di Grandet, assumeva talvolta un'importanza enorme agli occhi di Eugenie e di sua madre. «Sa da rubare forse al babbo per trattar bene quel giovanotto? Chiedetegli del burro, della farina, della legna e, chissà che a voi non ne dia, eccolo appunto, scende per regolare le provviste!» La fanciulla scappò in giardino tutta spaventata nell'udir scricchiolare la sala sotto i passi di suo padre. Già in lei si svegliavano quel profondo pudore e quell'intuito particolare della propria felicità che ci fanno credere e non a torto che i pensieri appaiono scritti in fronte e balzino agli occhi altrui. Ella aveva compreso d'un tratto la gelida nudità della casa paterna e una specie di dispetto la saliva per non poterla mettere d'accordo con l'eleganza di suo cugino. Sentì il vivo bisogno di far qualcosa per lui ma che? Non lo sapeva ingenua e sincera si abbandonava alla sua natura d'angelo senza diffidare delle impressioni e dei sentimenti. Alla sola vista del giovane se erano in lei scosse le tendenze naturali della donna tanto più che i 23 anni compiuti le davano facoltà di intelligenza e di desiderio. Per la prima volta ebbe paura di trovarsi di fronte a suo padre per la prima volta vide in lui il padrone della propria sorte e si crede colpevole perché gli nascondeva i pensieri. Camminava in fretta meravigliata di respirare un'area più pura di sentire vivificanti raggi del sole di trarne un calore morale una vita nuova. Mentre studiava il mezzo di avere un pasticcio tra nanone grande scoppiava una di quelle dispute che fra loro erano così rare come le rondini d'inverno armato delle sue chiavi il vecchio era venuto a disporre i viveri necessari per il giorno. C'è rimasto nulla del pane di ieri chiese alla fantesca nemmeno un briciolo signore. Grande prese un grosso pane rotondo e stava per tagliarlo quando nanò osservò ma noi siamo in cinque oggi signore. E' vero rispose Lavaro ma questo pane pesa sei libri e ne avanzerà d'altra parte questi giovanotti di Parigi non mangiano pane vedrai mangeranno della frip disse nanò nell'angio la frip modo di dire popolaresco significa companatico dal burro sulle tartine alle confetture e tutti coloro che nella loro infanzia hanno leccato la frip e lasciato il pane comprendono questa cara locuzione no no non mangiano né companatico né pane somigliano quasi a ragazze da marito dopo aver con parsimonia ordinato il pasto quotidiano grande stava per recarsi al ripostiglio delle frutta e chiudeva gli armadi della dispensa allorché la domestica lo fermò per dirgli padrone datemi un po' di farina e di burro così potrò preparare un pasticcio per quel ragazzo oh che ti salta in mente di spogliare la casa per mio nipote non pensavo al vostro nipote più che al cane non ci pensavo più di quello che ci pensate voi ma a proposito ecco che mi avete dato solo sei pezzi di zucchero mentre me ne occorrono otto ah per bacco nanò non t'ho mai vista così che ti gira sei la padrona non ti do più di sei pezzi di zucchero e allora con che cosa vostro nipote addolcirà il suo caffè con due pezzi di zucchero ne farò a meno io voi farà meno dello zucchero alla vostra età preferirei andarvene a comprare di tasca mia impicciati nei fatti tuoi malgrado il ribasso dei prezzi lo zucchero era sempre agli occhi del bottaio la più preziosa delle derrate coloniali che valeva sei franchi la libra tutte le donne anche la più sciocca sanno trovare il modo di raggiungere uno scopo e quindi nanò lasciò cader la questione dello zucchero per tornare al pasticcio signorina gridò dalla finestra non è vero che desiderate un pasticcio no no rispose geni e sia disse grandene l'udire la voce della figlia prendi aprì la madia ovvero la farina ne consegnò una misura e aggiunse qualche oncia di burro al pezzo che già aveva tagliato ci vorrei a legna per accendere il forno osservò l'implacabile nanò prendine soggiunse il vecchio con aria malinconica ma allora potrei farci una torta di frutta e cuocere al forno il pranzo intero così non accenderà i due fuochi non c'era bisogno di dirmelo esclamò la fantesca mentre grandene le dava un'occhiata quasi paterna poi rivolgendosi ad eugenie padroncina avremo il pasticcio papà grande tornò carico di frutta e ne posò una bracciata sul tavolo della cucina che stivali a vostro nipote gli disse la domestica guardate il cuoio ha un odore così buono con che mai dovrò pulirli con la vostra vernice all'uovo nanon forse l'uovo guasterebbe quel cuoio d'altra parte tu non conosci il modo di illustrare il marocchino giacché è proprio marocchino comprerà lui stesso a somur quello che occorre ho inteso dire che si mescoli anche dello zucchero nella vernice per renderla brillante è dunque buona a mangiare chiese l'altra avvicinando il naso agli stivali hanno lo stesso profumo dell'acqua di colonia della signora è proprio una bellezza bello disse il padrone ti par dunque bello spendere negli stivali più di quanto valga chi li porta padrone osservò nanon al secondo passaggio di grande che aveva già chiusa la stanza delle frutta bisognerà mettere la pentola al fuoco due volte la settimana ora a causa di vostro sì allora devo andare dal macellaio no farai brodo di volatili e i fittavoli non te ne faranno mancare intanto io dirò a cornoie di ammazzarmi dei corvi danno il miglior brodo del mondo ma è vero che mangiano i morti sei una bestia mangiano quello che trovano come tutti gli animali e anche noi non si vive forse di morti le successioni in fondo cosa sono non avendo più ordini da dare papà grande trasse l'orologio vide che prima della colazione gli rimaneva libera una mezz'ora e preso il cappello andò ad abbracciare la figlia invitandola vuoi venire un po' a spasso per i miei prati lungo la loira e geni si mise il cappellino di paglia guarnito di stoffa rosea e tutti e due scesero la via tortuosa che menava in piazza dove va così presto chiese il notaio Cruchot al possidente incontrandolo a veder certe cosette rispose l'altro senza diventare lo zimbello della passeggiata dell'amico per esperienza il notaio si era convinto che quando grande aveva qualcosa da vendere anche egli poteva guadagnarci e l'accompagnò senz'altro venite venite Cruchot gli disse il vecchio vi conto fra gli amici e voglio mostrarvi come sia una sciocchezza piantar pioppi nelle terre fertili e vi paian dunque nulla i 60.000 franchi che prendeste da quelli piantati nelle praterie della loira osservò Masso Cruchot spalancando due occhi da ebete fu una vera fortuna quella tagliare gli alberi proprio quando a Nantes mancava il legno bianco e venderli a 30 franchi la fanciulla ascoltava inconscia di essere nel punto più solenne della sua vita e senza nemmeno sospettare che il notaio avrebbe provocato per lei una irriducibile risoluzione paterna grande era giunto sulle magnifiche praterie che possedeva in riva la loira dove 30 operai si affaccendavano a colmare pestare e livellare le fosse prima occupate dai pioppi Masso Cruchot guardate ora quanto terreno prende un pioppo disse al notaio Jean gridò poi a un operaio mi mi misura tu la canna in tu tu tutti i sensi 32 piedi rispose l'altro dopo aver eseguito l'ordine 32 piedi di perdita continuò Grandet rivolgendosi a Cruchot verano su questa linea 300 pioppi ne è vero dunque 300 300 volte 32 piedi me ne mangiavano 5 ecco 500 di fieno aggiungete poi due volte tanto dei lati ed eccoci al 1500 lo stesso nel mezzo calcoliamo così così 3000 fasci di fieno bene bene disse Cruchot per aiutare l'amico 3000 fasci di quel fieno valgono su per giù 1800 franchi dite 2000 perché saranno sempre 3 o 4 franchi dallo scarto ebbene calcolato ciò che che 2000 franchi fruttano ogni anno durante 40 anni con gli interessi composti che che voi sapete ci avviciniamo ai 100 mila franchi disse il notaio benissimo sarebbe dunque 100 mila franchi ora rispose il senza balbuzie 2500 pioppi di 40 anni non me ne darebbero più di 75 mila vi è quindi della perdita ho trovato questo io affermò grande rialzandosi in tutta la persona e continuò volgendosi all'operaio jean colma pure le fosse tranne dal lato della loira dove pianterai i pioppi che ho comprati mettendoli lungo la riva verranno su a spese del governo aggiunse verso cruchot mentre il naso gli tremava ad un moto leggero che valeva il più ironico dei sorrisi è chiaro i pioppi non devono essere piantati che sulle terre magre disse cruchot attonito ai calcoli di grandè sì signore rispose il bottaio sardonicamente e genie che contemplava intanto il sublime paesaggio della loira senza ascoltare le parole di suo padre tese l'orecchio quando udì il notaio a chiedergli e così avete fatto venire dunque un genero da parigi non si parla che di vostro nipote per somur avrò presto un contratto da stipulare eh papà grande voi voi siete uscito di buon buon mattino per dirmi questo rispose il vecchio con un nuovo moto del naso ebbene caro mio sarò franco e vi dirò quel che volete sapere butterei piuttosto mia figlia nella loira anziché darla a suo cucugino potete pur dirlo ma no è meglio lasciar correre quella risposta fu per la giovenetta un colpo di fulmine le lontane speranze che cominciavano a spuntarle in cuore crebbero d'un tratto presero forma e caddero come un mazzo di fiori appassiti ieri si era attaccata a charles con tutti i vincoli di felicità che uniscono le anime ed oggi il dolore veniva a rafforzarli poiché è nell'indole nobile della donna commuoversi meglio al rude aspetto della miseria che agli splendori della fortuna come mai il sentimento paterno aveva potuto estinguersi nell'anima di grandè che delitto aveva commesso charles mistero già il suo amore nascente brancolava nell'ignoto tornò tutta tremante e quando giunse nella vecchia strada oscura già così lieta per lei le sembrò triste e vi respirò per la prima volta quella malinconia che tempi e cose vi avevano impresso l'amore le aveva già insegnato le sue astuzie più fini e a qualche passo da casa e la precedette il padre aspettandolo presso l'uscio dopo aver picchiato mentre questi veduto in mano al notaio un giornale ancora chiuso nella fascetta gli domandava a quanto la rendita oggi voi non volete darmi retta grande rispose Cruchot ma io vi consiglierei di comprarne subito ve ancora il 20% di guadagno in due anni oltre gli interessi a un tasso vantaggioso 5.000 franchi di rendita per 80.000 e 80 franchi e 50 centesimi vedremo disse l'altro grattando il mento dio mio esclamò il notaio che c'è chiese il vecchio nel punto stesso che Cruchot gli poneva sott'occhio il giornale con un leggete il signor Grandet uno dei più stimati negozianti di Parigi si è fatto ieri saltare le cervella dopo la solita apparizione alla borsa aveva mandato al presidente della camera dei deputati le sue dimissioni e sarà anche dimesso da giudice del tribunale di commercio i fallimenti dei signori Rogan e Bouchd l'uno suo agente di cambio l'altro suo notaio lo hanno rovinato però la stima e il credito di cui godeva il signor Grandet erano tali che egli avrebbe potuto certamente trovare soccorsi sulla piazza di Parigi è quindi deplorevole che abbia ceduto ad un primo impeto di disperazione eccetera lo sapevo disse il vignarolo al notaio queste due parole agghiacciarono Cusciò il quale malgrado l'impassibilità propria del suo ufficio sentì un brivido per le vene pensando che il Grandet di Parigi aveva forse in vano implorato i milioni del Grandet di Saumur e il figlio così allegro ieri non sa ancora nulla rispose l'ex bottaio con la stessa calma addio signor Grandet disse Cusciò che aveva capito e si recò a rassicurare il presidente de Bonfond entrando Grandet trovò già pronta la colazione sua moglie a cui Eugénie saltò al collo con viva effusione di cuore prodotta da un segreto affanno era al solito posto sulla sedia e lavorava dei manichini per l'inverno potete mangiare potete disse Nanon scendendo gli scalini a quattro a quattro il ragazzo dorme come un cherubino è così bello con gli occhi chiusi sono entrata e l'ho chiamato ma chi vi risponde nessuno lascialo dormire disse Grandet tanto oggi si desterà troppo presto per avere una cattiva notizia che è avvenuto disse Eugénie lasciando cadere nella sua tazza di caffè i due pezzetti di zucchero di pochi grammi che il vecchio si divertiva a tagliare egli stesso nelle ore d'ozio la signora Grandet che non aveva osato di far la domanda guardò il marito suo padre si è fatto saltare le cervella mio zio esclamò Eugénie oh povero giovane gridò la signora Grandet si povero davvero aggiunse Grandet non ha più un centesimo eppure dorme come se fosse il re della terra disse la domestica con insolita dolcezza nella voce Eugénie cessò di mangiare sentendosi il cuore stretto quasi da una morsa come accade allorché nell'anima di una donna dilaga un tratto la compassione per la sventura di chi si ama e scoppiò in lacrime tu non conoscevi lo zio perché piangi chiese il padre con uno di quegli sguardi da tigre afframata che certo doveva gettare ai suoi mucchi d'oro ma signore arrischiò la fantesca e chi non avrebbe pietà di quel povero giovanotto che dorme come un tasso ed è ignaro della sua sorte io non parlo con te non tieni a posto la lingua Eugénie si accorse allora che la donna innamorata deve sempre dissimulare i propri sentimenti e non rispose fino al mio ritorno non gli direte nulla spero signora grande ordinò il vecchio vado a far pulire e livellare il fossato qui vicino sulla strada tornerò a mezzogiorno e parlerò con mio nipote degli affari suoi quanto a te signorina Eugénie se è per quel bell'imbusto che piangi puoi farne a meno figlia mia egli partirà per le indie presto presto e non lo vedrai più preso il cappello i guanti le infilò con la solita calma ed uscì ah mamma io soffoco gridò la giovanetta appena fu sola con sua madre non ho mai sofferto tanto la buona donna vedendo la figlia impallidire aprì la finestra perché respirasse aria fresca sto meglio disse Eugénie poco dopo quella crisi nervosa in un indole fino all'ora calma e fredda in apparenza scosse la signora grande che guardò la ragazza con quell'intuizione di simpatia propria delle madri verso l'oggetto della loro tenerezza e indovinò ogni cosa d'altra parte poi neanche la vita delle due celebri sorelli ungheresi congiunte l'una all'altra da un capriccio di natura era stata più intima di quella di Eugénie e di sua madre sempre insieme nella chiesa sempre insieme in quell'ambiente povera figlia mia esclamò la signora grande stringendo al seno la testa di Eugénie a quelle parole la giovane sollevò il capo fissando la madre come per scrutarne i segreti pensieri e chiese perché mandarlo in india sei infelice non vi pare che debba restare qui non è forse il nostro parente più prossimo sì ragazza mia ciò sarebbe naturalissimo ma tuo padre ha le sue ragioni e noi dobbiamo rispettarle madre e figlia sedettero in silenzio ai loro soliti posti e ripresero il lavoro ma in uno slancio di riconoscenza per l'ammirabile intuito d'affetto che la mamma le aveva dimostrato Eugénie le baciò la mano dicendo quanto sei buona mamma mia queste parole fecero illuminare l'anziano viso della madre segnato da lunghi dolori trovi che sia giusto chiese Eugénie la signora grande sorrise lievemente e dopo qualche minuto di silenzio aggiunse sottovoce l'ami già sarebbe un guaio un guaio replicò Eugénie e perché egli ti piace piace Anna no per qual motivo non dovrebbe piacere anche a me senti mamma apparecchiamo la tavola per la sua colazione e gettò via il lavoro la madre fece altrettanto e mormorò tu diventi pazza ma ella già scusava la pazzia della figlia Eugénie chiamò la domestica che volete ancora signorina no no tu avrei certo preparato della crema per mezzogiorno ah per mezzogiorno sì rispose la vecchia bene fagli dunque un caffè molto carico poiché ho sentito dire dal signor de grassè che il caffè si fa molto carico a parigi mettine parecchio sì e dove prenderlo comprane e se il padrone mi incontra è nei suoi terreni corro subito ma il signor fessar dandomi la candela mi ha già chiesto se in casa nostra sono giunti i tre magi ormai tutta la città comincia a sapere di queste spese se tuo padre s'accorge di qualche cosa osservò la signora grande è capace di batterci ebbene ci batta pure riceveremo in ginocchio i suoi colpi la signora grande non fece che levare gli occhi al cielo mentre nonò messa la cuffia usciva e genie preparò della biancheria pulita e andò a cercare qualche grappolo d'uva che la aveva appeso nel granaio camminando lieve lungo il corridoio per non svegliare il cugino né poter restare dal fermarsi innanzi alla sua porta a udirne il respiro calmo e ritmico la sventura veglia mentre dorme pensò prese le foglie più verdi della vigna accomodò l'uva in un certo modo civettuolo come avrebbe fatto un vecchio cuoco e la portò trionfalmente in tavola fece quindi man bassa in cucina sulle pere che il padre aveva contate e le dispose in piramide tra le foglie andava veniva correva si affannava avrebbe voluto rivistare la casa intera ma il vecchio teneva tutte le chiavi la domestica tornò in quel punto con due uova fresche e Dejeuny vedendole ebbe una voglia matta di saltarle al collo il fittavolo della landa le portava nel paniere gliene ho chieste e me le ha date per compiacermi il buon vecchio dopo un paio d'ore lasciando venti volte il lavoro per correre a vedere se il caffè bollisse o per il rumore che faceva suo cugino levandosi la fanciulla riuscì a preparare una colazione semplicissima poco costosa ma che derogava terribilmente dalle abitudini inveterate della casa a mezzogiorno si mangiava in piedi un pezzo di pane un po' di frutta o un po' di burro e si beveva un bicchiere di vino quando ella vide la tavola pronta accanto al fuoco ed uno dei seggioloni messo davanti la posata del cugino quando vide i due piatti di frutta il calice per le uova la bottiglia di vino bianco il pane e lo zucchero nella sottocoppa allora solo ebbe una specie di brivido per tutte le membra pensando allo sguardo di suo padre se gli fosse entrato in quel momento e cominciò a guardare di continuo l'orologio a pendolo lusingandosi nella speranza che la colazione del giovane fosse finita prima del ritorno del vecchio non temere geni se tuo padre torna sono io responsabile disse la signora grande negli occhi della giovane apparve una lagrima mentre le esclamava oh mia buona mamma non t'ho mai amata abbastanza si sentiva charla andare su e giù da un pezzo per la stanza cantarellando infine si decise a scendere per fortuna poco prima delle undici il parigino aveva fatta la sua toletta con la medesima cura che vi avrebbe messo nel castello della nobile signora viaggiante niscozia ed entrò con quell'aria affabile gaia che sta così bene ai giovani e che svegliò in eugenie un senso di gioia misto a tristezza chiese subito alle donne avete riposato bene stanotte cara zia e voi cugina bene signore e voi rispose la signora grande io benissimo avete fame ne vero cugino disse eugenie mettetevi a tavola ma io non tocco mai nulla prima di mezzogiorno l'ora in cui son solito levarmi però mi è andato così male il viaggio che d'altra parte e trasse il più bello orologio della fabbrica a breguet guarda sono appena le undici divento mattiniero mattiniero osservò la zia sì proprio ma volevo spicciare i miei affari bene forse mangerei volentieri qualcosa una inezia un po' di pollo un perniciotto vergine santa esclamò la no udendolo una pernice pensava eugenie che avrebbe voluto acquistarla subito con tutte le sue ricchezze sedete gli disse sua zia il damerino si lasciò cadere sul seggiolone come una donnina graziosa si butta sul divano e le due donne gli sedettero accanto presso il fuoco e voi state sempre qui chiese charles trovando di giorno la sala ancora più brutta di quella che fosse con i lumi sempre rispose la fanciulla guardandolo tranne all'epoca della vendemmia allora andiamo a dare una mano alla nanon e ci si ferma tutti all'abbazia di noyer e non andate mai a passeggio qualche volta la domenica dopo i vespri se il tempo è bello disse la signora grandè arriviamo fino al ponte o ci rechiamo a vedere falciare i foraggi non v'è teatro qui che andare allo spettacolo esclamò la buona donna vedere i commedianti ma non sapete che peccato mortale ecco mio caro signorino interruppe la domestica recando le uova ecco il pulcino nel guscio ah delle uova fresche disse charles che come tutti coloro i quali sono avvezzi al lusso aveva già dimenticato il perniciotto delle uova fresche ma è una delizia e se aveste un po' di burro ragazza mia il burro allora addio pasticcio porta dunque del burro nanò le gridò i geni la fanciulla guardava il cugino tagliare con cura delle piccole fette di pane e ci si divertiva allo stesso modo che la più sensibile grisette di Parigi si diverte alla rappresentazione d'un dramma in cui trionfa l'innocenza poiché a dir vero il giovine educato da una madre assai squisita e perfezionato da una donna mondana aveva modi civettuoli leggeri affascinanti simili a quelli di una innamorata l'interesse e la tenerezza di una fanciulla hanno certo in sé qualcosa di magnetico e Charles accorgendosi che tutte per lui erano le cure della cugina e della zia non poteva fare a meno di cedere a quei sentimenti che quasi quasi lo inondavano volse ad eugenie uno sguardo pieno di bontà e di carezze uno sguardo che pareva proprio un sorriso e contemplandola ebbe agio di scorgere la squisita armonia dei puri lineamenti la soave aria di innocenza che ne adornava il volto e la magica luce dei suoi occhi in cui scintillavano dolci pensieri d'amore per bacco cugina se foste in un palco all'opera e vestita a dovere vi garantisco che mia zia avrebbe ragione davvero perché fareste commettere molti peccati di desiderio agli uomini e di gelosia alle donne a quel complimento la giovinetta ebbe come una stretta al cuore un acuto palpito di gioia benché nulla vi comprendesse oh cugino mio volete burlarvi di una povera provincialetta se mi conosceste cugina sapreste pure che a me non piace scherzare la burla fa passire il cuore e dissipa ogni sentimento sì forse mi manca lo spirito per bullarmi degli altri e ciò è male a Parigi vi annichiliscono con una parola a buon cuore frase che significa il povero giovane è bestia quanto un rinoceronte ma siccome io son ricco e tutti mi sanno abile al punto da colpire un fantoccio a trenta passi al primo colpo con ogni sorta di pistola in pieno campo così il ridicolo non mi tocca quel che dite nipote mio dimostra molto buon cuore avete un bellissimo anello disse Genie vi dispiace che lo osservi Charles tese la mano sfilandolo e la fanciulla arrossì nello sfiorare con la punta delle dita le unghie rose del cugino guardate mamma che bel lavoro oh se venè dell'oro esclamò Nanon che portava il caffè ma che diamine è questo chiese il giovane ridendo e indicò un vaso oblungo di terra bruna verniciato all'interno in fondo al quale cadeva il caffè sospinto prima alla superficie del liquido bollente è caffè bollito rispose la fantesca ah zia lascerò almeno qualche buona traccia del mio passaggio qui siete ancora molto indietro a quel che vedo ma vi insegnerò io a fare del buon caffè in una caffettiera alla chaptal e tentò di spiegarne il sistema bene bene ma se ci vuol tanto non mette conto di servirsene per me non lo farò certo mai a quel modo e chi raccoglierebbe l'erba per la vacca se mi occupassi attorno al caffè lo farei io disse Eugenie bambina mormorò la madre guardandola a quella parola che ricordava l'imminenza del dolore per l'infelice giovanotto le tre donne tacquero fissandolo con un'aria di compassione che lo meravigliò che avete dunque cugina zitta ingiunse la signora grandea alla fanciulla che era lì per tradirsi tu sai figliuola che tuo padre si è proposto di parlare lui al signor dite semplicemente Charles osservò il giovane ah vi chiamate Charles che bel nome esclamò Eugenie il male presentito arriva quasi sempre e proprio in quel punto nanò la signora grandea e la figlia già inquiete all'idea del ritorno del vecchio bottaio udirono un colpo di picchiatoio ad esse ben noto ecco il babbo disse Eugenie e tolse la sottocoppa con lo zucchero lasciandone cadere qualche pezzo sulla tovaglia mentre nanò portava via il calice delle uova e la signora grandea si alzava come una cerva spaventata fu un timor panico di cui Charles rimase stupefatto senza saperselo spiegare cosa accade domandò ma ecco mio padre rispose Eugenie ebbene il signor grandea entrò e in un solo sguardo penetrante vide tutto ahah avete fatto festa a vostro nipote bene benissimo va benissimo disse Dunfiato senza balbettare quando non c'è il gatto i topi ballano festa pensò il giovane incapace di sospettare il sistema di quella casa dammi il mio bicchiere nanò aggiunse il vecchio Eugenie portò il bicchiere e Grandè tratto di tasca un coltello di corno alla malarga tagliò una fetta di pane vi distese sopra con cura un po' di burro e cominciò a mangiare in piedi Charles intanto metteva dello zucchero nel suo caffè ma quando Grandè lo vide scrutò il viso della moglie che impallidiva e fece tre passi chinandosi all'orecchio della poverina per sussurrarle e tutto quello zucchero dove l'avete preso nanò è andata a comprarne da fessar non venera più in casa è impossibile immaginare con qual profondo interesse le tre donne seguissero quella scena muta la domestica aveva lasciato la cucina e sbirciava in sala per vedere come andassero le cose mentre il giovanotto trovando il caffè amaro chiedeva lo zucchero che Grandè aveva già messo sotto chiave che volete nipote un po' di zucchero mescolatevi del latte replicò il padron di casa e vedrete che il caffè sarà più dolce Eugénie andò a prendere senz'altro la sottocoppa dello zucchero e la ripose in tavola contemplando suo padre con aria calma certo fu maggiore il coraggio di lei per tale atto semplicissimo di quello della parigina che sostiene con le deboli braccia una scala di seta per agevolare la fuga dell'amante poiché a questa che mostra con orgoglio il delizioso braccio illividito darà all'amante dolce compenso di lacrime e baci in ogni vena ma Charles non potrà mai nemmeno sospettare la terribile agitazione della cugina fulminata dallo sguardo del vecchio bottaio tu non mangi moglie mia la povera ilota la povera schiava si fece avanti con un vivo tremito nella persona tagliò un pezzo di pane e prese una pera mentre Egenie audacemente offriva al padre dell'uva dicendogli assaggiatene dunque babbo ed anche il cugino ne mangerà non è vero li ho scelti apposta per lui questi bei grappoli oh se non ci si mette riparo sono capaci di porre a saccheggio sommure per voi nipote quando avrete finito andremo insieme in giardino ho da dirvi delle cose abbastanza tristi lo sguardo che Egenie e la madre rivolsero a Charles fu per lui come uno sprazzo di luce rivelatrice che mai significano le vostre parole zio dopo la morte della povera mamma non so che sventura possa colpirmi ancora nipote è dato ad alcuno di prevedere quali dolori voglia provarlo la provvidenza osservò la zia ta 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 strillo grande ecco che incominciano le sciocchezze sento una certa pena mio caro nel vedere le vostre mani belle bianche e così dicendo gli mostrò quella specie di spalle di montone che la natura aveva posto in fondo alle sue braccia ecco delle mani fatte per ammassare scudi voi invece foste educato a mettere i piedi nella pelle con cui si fanno i portafogli per conservare i nostri biglietti di commercio male male ma che volete dire zio confesso che non vi capisco venite disse grande l'avaro chiuso lo sportello beve quel che restava del suo vino bianco e aprì la porta coraggio cugino l'accento della ragazza aveva messo il ghiaccio nel cuore di charles che seguì il terribile parente in preda ad un'angoscia straordinaria geni sua madre e la domestica passarono in cucina eccitate da una invincibile curiosità di spiare i due attori della scena che stava per svolgersi nel gabinetto umido dove il vecchio passeggiava ora silenzioso a fianco del nipote grande non si sentiva imbrazzato sul modo di comunicare a charles la morte del padre ma provava quasi compassione sapendolo senza un soldo e studiava le frasi per mitigare l'espressione di quella realtà crudele dirgli avete perduto il padre era nulla perché d'ordinario i padri muoiono prima dei figli ma dire non avete più un centesimo era come riunire in poche parole tutte le sciagure di quaggiù e già per la terza volta faceva il giro del viale di mezzo udendone la sabbia a scricchiolare sotto i piedi nelle circostanze solenni della vita l'anima resta come legata ai luoghi dove piaceri e dolori ci colpiscono e perciò charles esaminava attento gli arboscelli di quel giardinetto le foglie vizze che cadevano i guasti delle mura e le figure bizzarre degli alberi da frutta in modo che quei dettagli si imprimevano nel fondo fosco del suo avvenire mescolandosi per sempre a quell'ora suprema in forza di una mnemonica tutta speciale delle passioni fa assai caldo oggi e il tempo è bello disse grande aspirando una boccata d'aria sì zio ma perché bene amico ho triste nuove da darti tuo padre sta male molto male e allora perché sono qui no no subito dei cavalli da posta ci sarà spero una carrozza nel paese aggiunse poi volgendosi al vecchio che se ne stava immobile carrozze e cavalli non servono rispose grande guardando charles che lo fissava muto con gli occhi vitrei sì giovanotto mio tu l'indovini egli è morto ma ma c'è qualcosa di più grave ancora si è bruciato la cervella mio padre sì e non è tutto poiché i giornali ne parlano come se ne avessero il diritto leggi grande spiegò il foglio preso in prestito dal notaio e gli mise il fatale articolo sotto gli occhi mentre il giovane poco provato al dolore scoppiava in lacrime oppresso dalla pena degli affetti e via meno male pensò l'altro poco fa il suo sguardo mi impensiriva ma già che piange è salvo indi aggiunse senza badare se il nipote avesse forza di ascoltarlo del resto ciò è nulla mio povero ragazzo è nulla e ti consolerai il peggio sta oh no mai mai padre mio padre mio il peggio sta nel fatto che egli ti ha rovinato e oggi non possiedi più un soldo e che mi importa dov'è mio padre oh babbo lacrime e singhiozzi destavano echi terribili le tre donne all'udirli piangevano anch'esse comprese di pietà poiché il pianto è contagioso al pari del riso charles senza dar più retta allo zio corse attraverso il cortile fino alla scala salì alla sua camera e si gettò sul letto nascondendo la faccia nelle lenzuola per piangere liberamente lungi dai suoi parenti bisogna che gli passi la prima impressione disse grandè rientrando in sala dove Eugénie e sua madre avevano subito ripresi i loro posti e lavoravano con mano tremante dopo essersi asciugati gli occhi però questo giovanotto non è buono a nulla si occupa più dei morti che del danaro la fanciulla ebbe un brivido nell'udire suo padre a parlare così del più santo fra i dolori e da quel punto essa cominciò a giudicarlo benché affievoliti per la distanza i singhiozzi di Charles si ripercuotevano in quel fabbricato sonoro e il suo pianto disperato che pareva uscire di sotterra si fece meno violento solo verso il tardi e cessò quasi a sera povero giovane sospirò la signora Grandè fatale esclamazione papà Grandè guardò sua moglie Eugenie e la zuccheriera si ricordò della insolita colazione apparecchiata per l'infelice suo parente e si piantò in mezzo alla sala a proposito disse con la calma abituale spero che non vorrete ripetere le vostre prodigalità signora non vi do il mio danaro per trattare a zuccherini quello scioccherello la mamma non ci ha colpa affatto sono stata io che forse perché sei maggiore di età rispose Grandè interrompendo la figlia ti permetti di contrariarmi pensa Eugenie babbo il figlio di vostro fratello non doveva mancare in casa vostra tatatata gridò il bottaio su quattro toni cromatici il figlio di mio fratello di qua mio nipote di là Charles non ci è nulla non ha un quattrino e suo padre è fallito quando quel ganimede avrà pianto l'anima sua sloggerà di qui perché non voglio che mi metta sottosopra la casa che significa fallire babbo fallire e forse commettere l'atto più disonorevole del mondo deve certo essere una gran colpa e il povero uomo sarà dannato osservò la signora Grandè e via ecco le solite chiacchiere disse il vecchio alla moglie crollando le spalle fallire genie significa essere ladro e un ladro che disgraziatamente viene protetto dalla legge figurati che certa gente ha fornito merci a Guillaume Grandè fidando sul suo onore e sulla sua probità ed egli ha preso tutto e non lascia loro che gli occhi per piangere il bandito che si dà alla campagna è preferibile sempre a chi fa bancarotta almeno quello vi assale e potete difendermi almeno egli rischia la vita ma l'altro insomma Charles è disonorato l'eco dolorosa di quelle parole scese in fondo al cuore della povera ragazza gravandovi come un macigno poiché nella sua semplicità di delicato fiore nato in mezzo alla foresta ella non conosceva né le massime del mondo né i ragionamenti ingannatori e di sofismi senz'altro credette all'atroce spiegazione che del fallimento le dava il padre a bella posta evitando di spiegare la differenza tra fallimento involontario e bancarotta fraudolenta bene babbo ma non potevate voi impedire questa sventura mio fratello mi ha chiesto consiglio e poi e poi egli è debitore di 4 milioni e cos'è mai un milione babbo disse lei con l'ingenuità di un bambino che crede di poter trovare lì per lì ciò che desidera un milione esclamò grande è un milione di pezzi da 20 soldi e occorrono 5 pezzi da 20 soldi per fare 5 franchi dio mio dio mio gridò Eugénie e come mai lo zio possedeva 4 milioni ve forse qualcun altro in Francia che possa avere tanto denaro il vecchio si carezzava il mento e sorrideva d'un riso strano mentre Eugénie continuava che sarà di mio cugino Charles partirà per le Indie e là secondo il voto di suo padre potrà tentare la fortuna ed ha poi mezzi per giungervi gli pagherò io il viaggio fino sì fino a Nantes Eugénie gli saltò al collo ah babbo voi siete buono voi quell'abbraccio fece quasi diventare rosso grande che sentiva un po' il rimorso della coscienza occorre molto tempo per accumulare un milione chiese lei perbacco rispose il bottaio tu conosci quanto vale un Napoleone ebbene per arrivare a un milione ce ne vogliono cinquantamila mamma faremo dire delle novene per lui ci stavo pensando aggiunse la buona donna eccoci da capo sempre spender denaro gridò il marito ah credete forse che vi siano centinaia e migliaia di Napoleoni qui in casa in quel punto un lamento sordo più lugubre degli altri risuonò negranai agghiacciando le due donne nanò va un po' a veder lassù se egli dovesse uccidersi disse grande poi volgendosi alla moglie e dalla figliola che a quelle parole erano divenute pallide osservò ad ogni modo vi avverto di non fare bestialità voi altre esco per girare un po' attorno agli olandesi che partono oggi poi passerò da Cruchot per discutere con lui di questi affari quando udirono chiudere la porta Eugenie e la madre respirarono prima di quel mattino la fanciulla non si era mai sentita a disagio innanzi al padre ma da qualche ora e la mutava ad ogni istante sentimenti e idee mamma quanti Luigi si fanno con una botte di vino tuo padre vende le sue tra cento e centocinquanta e talvolta anche duecento franchi almeno così mi pare di aver udito e può raccogliere mille e quattrocento botti in verità fanciulla mia non ne so nulla tuo padre non mi parla mai dei suoi affari ma dunque il babbo deve essere ricco forse però il signor Cruchot mi disse dell'acquisto di Fouafon due anni or sono e questo l'avrà un po' paralizzato Eugenie che non capiva più niente della ricchezza del padre si fermò con i suoi calcoli oh non si è nemmeno accorto di me il piccino esclamò la domestica tornando è disteso lungo lungo sul letto come un vitello e piange come una maddalena ma da quale sventura è stato colpito il povero giovane saliamo a confortarlo mamma presto se bussano scenderemo la signora grande non seppe resistere al fascino della voce di sua figlia divenuta sublime in quel momento perché schiettamente donna e tutte e due col cuore palpitante giunsero all'uscio aperto della stanza di Charles che nelle lacrime non vedeva né udiva emettendo solo gemiti inarticolati quanto vuol bene a suo padre disse la fanciulla sottovoce nell'accento di quelle parole fremeva indubbiamente la speranza di un cuore appassionato ed anche la signora grande rivolse alla figliola un dolce sguardo materno e le sussurrò nell'orecchio bada tu forse l'amerai amarlo riprese geni ah se sapessi che mi ha detto il babbo Charles alzò la testa e scorse la zia e la cugina ho perduto il padre il mio povero padre ah se gli mi avesse parlato della sua disgrazia ci saremmo adoperati tutti e due per mettervi riparo dio mio il babbo ero tanto sicuro di rivederlo che mi pare di averlo abbracciato con freddezza partendo i singhiozzi lo interruppero noi pregheremo sempre per lui disse la signora grande rassegnatevi alla volontà del signore cugino aggiunse Eugenie abbiate coraggio e poiché la perdita è riparabile pensate a salvare il vostro onore con l'istinto e la fierezza della donna che ha spirito in ogni cosa anche quando conforta la fanciulla cercava di distrarlo dal dolore occupandolo di se stesso il mio onore gridò il giovane buttandosi indietro i capelli con un movimento brusco e sede sul letto con le braccia incrociate ah è vero mio padre è fallito mi diceva lo zio poi con grido straziante nascose il volto fra le mani lasciatemi cugina lasciatemi dio mio dio mio perdonate il babbo oh quanto ha dovuto soffrire vera un non so che di terribile e di commovente in quell'angoscia giovanile vera schietta senza calcolo qualcosa di fieramente pudico che le anime semplici delle due donne compresero subito non appena fece loro cenno di lasciarlo solo scesero tacite a riprendere i loro posti vicino alla finestra e lavorarono per circa un'ora senza scambiarsi una parola la fanciulla aveva visto nella stanza con un colpo d'occhio i graziosi ninno lidito eletta le forbici i rasoi ornati d'oro e quell'avanzo di lusso in mezzo a tanto strazio aveva accresciuto il suo affetto per Charles quasi in forza del contrasto mai così grave avvenimento né spettacolo così drammatico avevano colpito la immaginazione di quei due esseri sempre immersi nella calma e nella solitudine mamma noi porteremo il lutto per lo zio questo deve ordinarlo tuo padre rispose la buona donna e stettero zitte di nuovo mentre Eugénie tirava i suoi punti con una regolarità di moti dal quale un osservatore avrebbe capito a che si rivolgeva quella meditazione il più grande desiderio dell'adorabile creatura era di partecipare ora al dolore del cugino verso le quattro un colpo brusco di battente fece sussultare la signora Grandè che ha tuo padre chiese alla figlia il vignarolo entrò tutto lieto si tolse i guanti e si fregò le mani così forte che le avrebbe scorticate se la pelle non fosse stata dura come un cuoio di russia prese a passeggiare in su e giù a guardare il tempo ed alla fine il segreto gli sfuggì moglie mia narrò senza balbettare li ho presi tutti nel lacciuolo ho venduto il vino gli olandesi e i belgi erano in procinto di partire stamane e io sono andato a far quattro passi in piazza proprio davanti all'albergo dove alloggiavano sempre con aria di indifferenza coso sì quel tale che tu conosci è venuto i proprietari di buone vigne hanno deciso di aspettare ancora per vendere ed io mi sono guardato bene dal dissuaderli il nostro belga era alle strette me ne sono accorto e là subito a far fatto egli prende il mio raccolto a duecento franchi la botte e paga la metà con tanti in oro il contratto è conchiuso ed ecco sei luigi per te fra tre mesi i vini andranno molto giù di prezzo quest'ultima frase fu pronunziata con tono tranquillo ma con si profonda ironia che se gli abitanti di Somur raccolti allora in piazza e stupefatti per la vendita combinata da grandè l'avessero udita sarebbero stati colti da un fremito per le vene e il timor panico avrebbe subito invaso il ceto commerciale facendo ribassare i vini del 50% voi avete mille botti quest'anno babbo sì bimba mia era questa la più alta espressione di gioia del vecchio bottaio il che vuol dire duecentomila pezzi da venti soldi appunto signorina grande ebbene babbo allora non vi sarà difficile soccorrere Charles la meraviglia la collera lo stupore di baldassarre quando vide apparire il manete che è il fares possono considerarsi un non nulla di fronte al freddo corruccio del vecchio che mentre non pensava più al nipote si accorgeva subito come questi avesse preso largo posto nel cuore e nei calcoli della figliola oh perbacco da che questo damerino ha messo piede qui in casa tutto va sotto sopra voi vi date l'aria di ricconi e sembra che vi troviate a nozze e a festini ma io non lo voglio capite all'età mia debbo ben sapere come regolarmi e non ho bisogno di consigli farò per mio nipote quanto mi converrà e non spetta a voi di impicciarvene tu poi geni vada a non parlarmene più se non vuoi che ti mandi in 448 all'abbazia di Noaier con Nanò ma dov'è il giovanotto è sceso no amico mio rispose la moglie e che fa piange suo padre disse geni grande guardò la ragazza senza trovare parola da replicare sentendosi un po' padre anche lui poi prese uno o due giri per la sala e si recò lesto lesto nel suo gabinetto a meditarvi un impiego dei nuovi capitali nei fondi pubblici il taglio dei suoi mille e più ettari di bosco gli aveva dato 600 mila franchi a cui unendo il ricavato dei pioppi e le rendite di due anni oltre i 200 mila franchi che prendeva col vino veniva ad accumulare un insieme di 90 mila franchi lo tentava quel 20% che poteva guadagnarsi in breve sulla rendita dello stato e così calcolò la sua speculazione al margine del giornale che annunziava la morte del fratello rimanendo sordo ai gemiti del nipote di sotto intanto si serviva il pranzo e la domestica venne a picchiare contro il muro per avvisarlo nello scendere egli pensava ancora arriviamo all'8% di interesse quindi vi è convenienza nell'affare in due anni e un milione e mezzo di franchi che mi vengono tutti in oro sonante e così chiese forte dov'è mio nipote dice che non vuol mangiare rispose nanò non è una bella cosa questa tanto di risparmiato replicò il padrone per bacco osservò l'altra la fame caccia anche i lupi dal bosco il pranzo trascorse in un silenzio strano mio buon amico disse la signora grande quando la tavola fu apparecchiata bisognerà prendere il lutto a dir vero signora mi sembra che non abbiate altro da inventare per buttar via del denaro il lutto sa nel cuore e non negli abiti ma il lutto d'un fratello è indispensabile e la chiesa ci ordina di compratevi gli abiti dal lutto con i vostri sei luigi in quanto a me basterà un po' di crespo Eugénie levo gli occhi in alto senza parlare poiché per la prima volta in vita sua sentiva ferire ad ogni momento i propositi generosi in lei assopiti e ridestatesi di un tratto quella sera parve somigliasse alle altre tristi e monotone ma fu certo la più orribile la fanciulla lavorò a testachina e non si servì dell'astuccio che Charles aveva disprezzato il giorno prima la madre continuò la sua maglia e il vecchio si immerse per quattro ore nei calcoli che avrebbero meravigliato certo tutta saumurli domani non vi fu alcuna visita la città intanto parlava del nuovo affare di Grandet e del fallimento di suo fratello e dell'arrivo del nipote mentre in omaggio al bisogno di ciarlare sugli interessi comuni i proprietari di vigne erano convenuti in casa a Degrassin a fulminare di imprecazioni terribili l'ex sindaco Nanò in un angolo filava e il rumore delle sue ciabatte si sentiva di quando in quando sul pavimento grigiastro della sala sembra che noi non usiamo più le nostre lingue disse mostrando i suoi denti bianchi e grossi come mandorle sbucciate non occorre usare nulla rispose Grande scuotendosi dalla meditazione durante la quale gli sorrideva la prospettiva di otto milioni in tre anni e si vedeva già assiso su un monte d'oro andiamo a letto vado sopra a dar la buona sera a mio nipote anche per provare di fargli mangiare qualche cosa la signora Grande si fermò sul pianerottolo per udire la conversazione che avrebbe avuto luogo tra Charles e il vecchio mentre Eugénie più ardita della madre salì due gradini ebbene nipote mio siete addolorato piangete ed è naturale perché un padre è sempre un padre ma bisogna anche sopportare con pazienza le disgrazie mentre vi struggete in lacrime io mi occupo delle vostre cose sono un buon parente io su via un po' di coraggio bevereste un bicchier di vino a Somur non costa nulla il vino e lo si offre come nelle Indie una tazza di tè ma siete all'oscuro male male bisogna veder chiaro in ciò che si fa e mosse di filato verso il caminetto ecco ridò ecco delle candele dove diavolo sono andati a pescare delle candele di cera guasterebbero perfino il pavimento della mia casa per cuocere delle uova a quel giovanotto nell'udir queste parole madre e figlia scapparono in camera e si misero a letto in un attimo come topi spaventati che rientrano nei loro buchi sicché avete un tesoro voi signora chiese il bottaio entrando nella camera di sua moglie amico mio sto recitando le orazioni abbiate pazienza rispose la povera donna con voce alterata al diavolo il tuo buon dio borbottò grande gli avari non credono nella vita futura poiché per essi il presente è tutto e questo stesso concetto diffonde una luce orribile sul mondo odierno ove più che mai il denaro domina leggi politica e costumi istituzioni libri uomini e dottrina cospirano insieme a scuotere la fede in un'altra vita fede su cui da diciotto secoli si basa l'edificio sociale tuttavia ci troviamo quasi al medesimo punto poiché l'avvenire che ci attendeva al di là del requiem fu trasportato nel presente giungere per fas e nefas al paradiso terrestre del lusso e delle gioie vanitose pietrificare il cuore e macerarsi il corpo nell'ansia di beni passeggeri come un tempo si soffriva il martirio per acquistare i beni eterni ecco l'idea di tutti l'idea stabilita e concreta in ogni luogo persino nelle leggi le quali domandano all'uomo cosa paghi invece di dirgli cosa pensi se una dottrina simile si diffonderà dalla borghesia al popolo che ne sarà del mondo signora grande hai finito domandò di nuovo il bottaio amico mio sto pregando per te benissimo buonasera parleremo domattina la poveretta prese sonno come lo scolaro che non sa la lezione e prevede allo svegliarsi il viso irritato del maestro ma mentre ella s'avvolgeva paurosa nelle lenzuola ecco Eugenie avvicinarsi in camicia a piedi nudi per darle un bacio in fronte oh mamma buona domani gli dirò che sono stata io no ti manderebbe a noiè lasciami fare non mi mangerà alla fine lo senti mamma cosa non senti egli piange sempre torna a letto figliuola ti sigeleranno i piedi è tanto umido il pavimento così si chiudeva il giorno solenne la cui grave traccia rimaneva impressa nella vita della ricca ma infelice ereditiera e il cui sonno non ebbe più l'inconscio abbandono e la purezza soave di una volta assai frequente è il caso che certi atti della vita umana benché proprio veri sembrino in fondo inverosimili ma non accade ciò forse perché noi cerchiamo quasi sempre di illuminare le idee più spontanee con una specie di luce psicologica senza che tuttavia si spieghino le misteriosi ragioni da cui derivano forse la profonda passione della fanciulla dovrebbe analizzarsi nei moti più intimi e delicati poiché è divenuta come direbbe un bello spirito addirittura una malattia e ha pervaso la sua intera esistenza molti si limitano a negare lo sviluppo invece di calcolare la forza dei vincoli dei nodi degli anelli che legano segretamente un fatto all'altro nell'ordine morale ma qui il passato di Eugénie sarà per gli studiosi della natura umana come la prova della sua ingenuità e dell'improvviso effondersi dell'anima la quale tanto meglio si schiuda al più complesso dei sentimenti femminei la pietà quanto maggiore era stata la calma in cui era vissuta scossa dai casi del giorno ella si destò più volte per tendere l'orecchio verso la stanza del cugino donde le pareva venissero quei sospiri che di continuo le risuonavano in petto nella sua fantasia ora lo vedeva aspirare di dolore ora lo sognava morente di fame verso il mattino ritenne di aver udito una terribile esclamazione e si vestì subito alla scarsa luce dell'alba accorrendo leggera presso l'uscio sempre aperto della stanza del giovane la candela si era consumata fino in fondo e Charles vinto dal bisogno fisico dormiva vestito in una poltrona col capo abbandonato sul letto e immerso nei sogni di chi ha lo stomaco vuoto la fanciulla poté quindi piangere a suo agio ed ammirare il bel viso giovanile impallidito dal dolore gli occhi gonfi di lacrime che pareano scorrere anche nel sonno forse per una misteriosa corrente di simpatia Charles indovinò la presenza della giovinetta e aprendo gli occhi se la vide accanto tutta commossa scusate cugina mormorò quasi inconscio dell'ora del luogo dove si trovava vi sono cuori che qui vi comprendono cugino mio e noi abbiamo creduto che aveste bisogno di qualcosa ma perché non vi coricate a quel modo sarete stanco questo è vero bene addio allora ed uscì quasi fuggendo vergognosa e felice di essere venuta l'innocenza sola si arrischia simili arditezze poiché la virtù istruita calcola bene quanto il vizio e genie che non aveva tremato a fianco al cugino poteva appena reggersi sulle gambe quando fu in camera sua la sua vita ignorante era cessata tutta un tratto e la ragionò si fece dei rimproveri cosa penserà di me crederà che l'ami ed era appunto questo che ella desiderava soprattutto di fargli credere già che l'amore sincero ha forza divinatrice e sa bene che l'amore chiama amore che strano caso per quella solitaria fanciulla essere entrata così di nascosto nella stanza di un giovane non vi sono forse in amore atti e pensieri che per certe anime sono come il vincolo di un sacro fidanzamento un'ora dopo ella andava da sua madre per aiutarla a vestirsi come al solito e tutte e due ripresero i loro posti davanti alla finestra in attesa di grandè con quell'ansia che a seconda dei caratteri agghiaccia il cuore e lo salda lo stringe e lo dilata nel timore di una scenata o di un castigo sentimento questo naturalissimo anche negli animali domestici i quali gridano per la più piccola correzione e tacciono invece se sono feriti per inavvertenza grandè scese ma rivolse con aria distratta la parola a sua moglie abbracciò e genie e si mise a tavola senza far supporre che pensasse alle minacce del giorno prima che ne è di mio nipote in fondo il ragazzo non dà fastidio dorme signore rispose nanò meglio così risparmi alla candela aggiunse grandè in tono beffardo quell'insolita clemenza quella gaiezza amara colpirono la signora grandè che osservò attentamente suo marito il buon uomo qui è forse utile notare che in Turenna nell'Angione il Poitou ed in Bretagna l'appellativo buon uomo che talvolta adoperammo per indicare grandè va dato così alla gente più trista come alla più bonaria purché si tratti di persone di una certa età il buon uomo dunque prese il cappello e i guanti dicendo vado a fare un giro in piazza per vedere i cruchot e geni tuo padre cova certo qualcosa grandè infatti poco dedito al sonno passava metà delle notti nei calcoli preliminari da cui le sue vedute le sue riflessioni e i suoi disegni attingevano la precisione meravigliosa e si assicuravano il costante successo che sorprendeva l'intera Saumur il potere umano è un insieme di pazienza e di tempo e la gente forte è quella appunto che vuole e veglia come la vita dell'avaro è un continuo esercizio della forza umana a vantaggio della propria individualità e si appoggia su due sentimenti soli l'amor proprio e l'interesse ma poiché questo equivale in qualche modo all'amor proprio pratico e bene inteso cioè all'affermazione perenne di una superiorità vera si possono pur considerare l'uno e l'altro quali parti di un sol tutto che è l'egoismo di qui forse deriva lo straordinario interessamento che il pubblico prende al tipo dell'avaro messo in scena da abile artista sentendosi ciascuno avvinto per un filo a persone che rispecchiano tutti gli istinti dell'uomo e tutti li riassumono vi è mai individuo che non abbia desideri o vi è desiderio che possa soddisfarsi senza denaro? aveva ben ragione la moglie dell'ex bottaio di credere che gli covasse dentro qualcosa e di fatti come tutti gli avari in genere sentiva prepotente il bisogno di giocare una partita col resto degli uomini e togliere loro in modo legale degli scudi imporsi agli altri ed acquistare il diritto perpetuo di disprezzo verso i deboli che qua giù si lasciano inghiottire non è forse atto di potere? o chi ha capito l'agnello che si stende umile ai piedi di Dio l'emblema più commovente di tutte le vittime del mondo e del loro avvenire la glorificazione della debolezza e del dolore l'avaro bada che quell'agnello ingrassi e cerca di allevarlo in un parco poi lo ammazza lo cuoce ne mangia e lo disprezza già che il cibo degli avari si compone proprio di disprezzo e di denaro durante la notte Grandè aveva carezzato altre idee ordendo una trama per burlarsi dei parigini per torcerli a girarli renderli malleabili costringerli ad andare e venire a sparger sudori e a farsi lividi di timore o di speranza voleva divertirsi a loro spese lui l'antico bottaio in fondo alla sala grigia o su per la scala tarlata della sua casa di Somur e mentre così s'occupava del nipote sarebbe anche giunto a salvare l'onore del fratello morto senza spendere un soldo avendo già deciso di collocare per tre anni i suoi fondi non gli restava che la semplice amministrazione dei beni e ciò era poco per la sua maliziosa attività quindi in buon punto capitava quel fallimento avido di sentir qualcosa da stringere fra le zanne aveva pensato di sminuzzare i parigini a vantaggio di Charles e mostrarsi ottimo fratello a buon prezzo l'onore della famiglia entrava come un accessorio nel disegno e poteva paragonarsi al desiderio istintivo dei giocatori di vedere bene giocata una partita anche quando non vi hanno interesse personale gli occorreva oggi l'aiuto dei Cruchot però non sarebbe andato a cercarli egli aveva deciso di chiamarli invece in casa sua quella sera stessa e di cominciare a recitarla commedia per cui domani senza un centesimo di spesa avrebbe riscosso l'ammirazione generale della città l'ammirazione di spesa di spesa